Siamo a fine d'anno ed è il momento in cui si fanno i bilanci. Negli ultimi tempi nei miei interventi spesso asserisco che prevenire è meglio che curare. Lo abbiamo detto nel caso delle imprese a rischio chiusura, l'investimento statale per evitare la chiusura ed altra ulteriore disoccupazione è di un terzo rispetto agli oneri sociali che ne deriverebbero non pensandoci prima. Questo vale tra l'altro anche per gli eventi catastrofici per i quali la spesa preventiva si ridurrebbe ad un quarto, ma non solo, eviterebbe anche il costo di tante vite umane, cosa ancora ovviamente più importante.